Finisce la partita Presidente Puglisi, la prima vittoria in campionato 3-0, secco, netto, nitido. È storia, è storia, al di là del risultato che chiaramente ci dà tanto morale, è una prima vittoria storica nei professionisti ed è venuto con un bel 3-0, con il Taranto, una squadra a Platonato, quindi sono felicissimo. Si può dire che il campionato della Gennison è cominciato oggi? No, no, è cominciato già da due mesi, nella Serie G, è cominciato subito dopo Troina, abbiamo lavorato in maniera istancata, stiamo sempre sul pezzo, non moleremo mai. Il cambio di panchina si doveva fare, è stato fatto, è arrivato e per il momento ha dato anche un'ottima risposta. Un po' con gli errori di tutti, questa vittoria è da dividere con il mister Gianluca Esposito, a cui io personalmente la dedico. Grazie. Bravo Puglisi!